Ragazzi, oggi vediamo tutti i cambiamenti che ha subito il diamante o comunque tutti i minerali e tutte le strutture Tutti i cambiamenti che hanno subito dopo l'ultimo aggiornamento di Minecraft Buon appetito! Bella attrazione e bentornati in questo nuovissimo video, sono ChrisioCentatatacente e siamo con oggi ragazzi con un nuovissimo video aggiornamento Aspettate che devo muovere questo, no ho sbagliato, ecco, un nuovo video aggiornamento barra informazione In quest'ultimo periodo Minecraft sta cambiando tantissimo, bensì più che cambiamenti stranissimi stanno aggiornando le texture Ma prima di parlare dei nuovi diamanti e di quello che è cambiato con queste nuovissime texture Vi invito a lasciare un bel pollice in su perché a 900 mi piace ragazzi, 900 like, vi darò nuove informazioni che vi sconvolgeranno l'esistenza Detto ciò, domani ci sarà un video di Fortnite se riuscirò a registrarlo perché Fortnite è difficile da registrare Quindi rimanete sintonizzati e passate sul mio profilo Instagram ragazzi Perché saluto le 5 persone di oggi Davi, Alessandro, Valentina, Eleonora e Mario Buta Un salutone a tutti voi ragazzi Mi raccomando, passate sul mio profilo Christian trattino basso, Pignataro trattino basso per essere salutati perché nel prossimo episodio saluterò 10 di voi Quindi se avete un minutino dopo questo video mi raccomando ricordatevi, basta seguirmi e appunto andiamo così Parliamo del video di oggi, cosa è successo? Mi metto comodo così parliamo tutti insieme Guarda, eh, ti ho visto eh Guarda che ti ho visto, tu pensi che io non ti abbia visto ma io ti ho visto, tu hai detto Metti il mi piacino, valla a me, fai, no, se non clicchi non vado avanti Guarda che, l'hai messo? Allora procediamo Detto ciò, scherzi a parte, partiamo con il video di oggi In realtà non sono delle informazioni troppo esagerate, abbiamo un pochi argomenti però Ne parliamo, ne discutiamo e mi raccomando datemi la vostra opinione Il primo cambiamento che ha subito è questo qui Come ben sapete circa un annetto esatto fa, teoricamente Sono state aggiornate le nuove texture di Minecraft Che hanno cambiato un po' appunto alcune sfumature dei blocchi, alcune cose A molti sono piaciuti, a molti no Però appunto loro hanno visto apprezzamento su questa cosa E quindi hanno deciso di cambiarla nuovamente Non so perché ma hanno voluto fare alcune modifiche Le vediamo insieme Logicamente parliamo sia di Minecraft PC che di Minecraft PS4 Uscirà prima su PC e poi col tempo arriverà anche per noi PS4 Però siccome so che stanno lavorando a qualcosina Finalmente, forse, uscirà qualcosa anche per noi Anche perché non credo vogliano far morire la nostra PS4 La nostra amata PS4 Intanto ragazzi aggiunitemi le amicizie Perché presto registrerò dei video su Fortnite in vostra compagnia Ne oggi ho fatto uno questo fine settimana Ma ne registrerò altri Siccome ci sono molti di voi che hanno fatto la sponsor sulle mie live di YouTube Vi lascio il link in descrizione per diventare sponsor del canale Vi basta cliccare sul bottoncino sponsor che poi trovate nel link E diventerete sponsor Non vi preoccupate, non siete obbligati È una cosa per chi l'ha già fatto Quindi aperta parentesi Chi è già diventato sponsor ragazzi Sarà fra i primi appunto a giocare con me Su Fortnite Perché avremo modo di organizzarci in modo ordinato Detto ciò, chiusa questa parentesi Procediamo Queste sono le sfumature che hanno aggiornato Quindi quella alla mia Quella che vedete a sinistra sul vostro schermo Quindi dall'altra parte E la versione numero 1 Quindi hanno cambiato il vetro Ma neanche più di tanto qua Hanno cambiato il vetro Praticamente hanno aggiunto Hanno sfumato un po' le lineette Le cose Niente di fondamentale Qui invece ragazzi ci sono già dei cambiamenti Come vedete Hanno cambiato un po' la sabbia delle anime L'hanno resa un po' più sabbiosa Mentre hanno cambiato completamente invece ragazzi La terra del nether La nether track Come si chiama E vedete che l'hanno Non è più Cioè completamente diversa rispetto a prima Adesso non sembra più terra Non sembra più nether track Ma sembra semplicemente tipo Un pavimento con Non lo so Non lo so Sembrano delle pietrone giganti Attaccate con l'attac Una dietro Non lo so Ditemi cosa ne pensate nei commenti Poi un'altra cosa Hanno cambiato il magma block E' un po' più realistico Sembra un po' più realistico Formato da un po' più di pietrozze E se vedete bene qua sotto Ci dovrebbe essere anche il quarzo Che è cambiato un pochino anch'esso Infatti vedete E' un po' più Ecco E' un po' diverso E' cambiata la pietra che lo conteneva Ed è un po' più Anche questo Un po' più realistico Insomma Ma il cambiamento più drastico E' stato questo Del diamante Il diamante che c'era prima Cioè quello totalmente sul vostro schermo Alla sinistra Era Così Cioè così Come lo vedete adesso Ma non è piaciuto Praticamente a nessuno Perché sembrava un quadrato Dentro un quadrato E non era più un diamante Cioè era tutt'altro Che un diamante Quindi non è piaciuto tantissimo Mentre è stato apprezzato Abbastanza lo smeraldo Mentre loro anche lì Dicevano C'è qualcosa che non va Sembra una pietra dei templari Non ci piace Perfetto Allora hanno nuovamente ricambiato Questa texture Non so perché non vogliono più tenere le texture originali Ma vi lascerò il link in descrizione Per poter scaricare questa texture nuova E provarla tra virgolette in anteprima Perché fra poco diventerà ufficiale Cioè diventerà poi obbligatoria Insomma Quindi se la volete già provare C'è lo snapshot che trovate in descrizione E questo è il diamante attuale Detto sinceramente Mi piace molto di più E anche molto realistico Quindi Devo dire che È bello 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 Tutto questo per Java Edition Momentaneamente L'oro è stato cambiato Che al posto di esserci Questo quadrato Che spunta fuori È incavato all'interno Bello anche così E lo smeraldo Invece ragazzuoli Al posto di essere Tipo avere una sorta di triangolo Che sembra quasi uscire fuori È stato leggermente Reso più piatto Più piano Ed è abbastanza gradevole Quindi questa situazione Io l'apprezzo Scrivetemi qua nel sondaggio Se preferite la versione 1 O la versione 2 Così ci confrontiamo almeno Detto ciò ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Queste breve informazioni Che vi ho dato Spero le abbiate apprezzate Fatemi sapere il vostro parere Nei commenti Mi raccomando E nei sondaggi Passate su tutti i miei social E passate anche sul canale Telegram Che trovate in descrizione Perché lì ci stiamo organizzando Per fare dei tornei Su Fortnite O comunque delle cose interessanti Vi ringrazio ancora tantissimo E che dire Noi ci becchiamo domani Con un nuovissimo video Ciao